L'imbianchino, ovvero l'epore Graziano, quando casa vostra diventa arte. Questo prodotto è realizzato con le notissime terre fiorentine, ovvero una mano di fondo e due di finitura per completare il lavoro in modo eccellente. Per contattare la ditta l'epore Graziano basta digitare il numero in sovraimpressione. Ecco una parete dipinta con il metodo denominato e conosciuto con il nome di arabesco, le vostre pareti con due mani di vernice per diventare arte. Come potete vedere la ditta l'epore Graziano si è sbizzarrita in questa bellissima parete della camera da letto. Lo stucco spatolato lucido in abbinamento al gesso e a una cornice a soffitto per rendere l'ambiente caldo ed elegante. Per contattare la ditta l'epore Graziano basta digitare il numero in sovraimpressione. Un altro prodotto di punta della ditta l'epore Graziano, ovvero l'imbianchino, è l'irridescente delle terre fiorentine. Il particolare speciale luminescente esaltato dalle particelle di colore blu. La parete in colore verde, realizzata con il metodo a velatura dalla ditta l'epore Graziano, essenziale e semplice e sobria, ma sufficiente per arricchire un ambiente. Per contattare la ditta l'epore Graziano basta digitare il numero in sovraimpressione. Lepore Graziano. Quando casa vostra diventa arte.